Nuovi profughi, eccone altri 25, saranno ospitati nelle strutture terramane abilitate. Università di Teramo, il ministero ha dato l'ok, dal 1 agosto sarà possibile iscriversi al Dams. Scuola e polemiche, le insegnanti della Michelessi vogliono restare con la dirigenza della San Giuseppe. Terca scontro comune, la lettera della banca sulla tesoreria non piace a nessuno, Dodo di Sabatino, un'offesa per il territorio. Provincia virtuosa, Renzo di Sabatino, abbiamo tagliato le consulenze del 40% risparmiando oltre 200 mila euro. E per lo sport Teramo Calcio, il direttore generale Scacchioli butta acqua sul fuoco, non drammatizzate le dichiarazioni del presidente. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. 25 nuovi profughi in arrivo in provincia di Teramo attraverso il canale gestito dalle prefetture. Saranno ospitati nelle strutture presenti sul territorio, quelle abilitate a seconda delle disponibilità. Intanto è stato emanato un bando dalla prefettura per ampliare a 700 il numero degli immigrati ospitati nel Teramano, oltre a quelli degli Sprar di Teramo e Roseto gestiti dai comuni. L'intervista al prefetto. Sono in arrivo 25 nuovi richiedenti asilo, comunque immigrati, qui nel territorio Teramano. È così, prefetto? Sì, è così. Noi abbiamo comunque sette strutture nell'ambito provinciale di Teramo. Devo dire che questo tipo di emergenza ormai è dal marzo del 2014 e che finora si è gestita molto bene, nel senso che non ci sono state reazioni veri e propri di ordine pubblico. Proprio stamattina, adesso stanno aprendo le busse per un'ulteriore gara di altre strutture ricettive, quindi noi pensiamo di avere al massimo delle capacità ricettive per 700 migranti. Questo tipo di bando di gara è stato pubblicato a seguito dell'indicazione del Ministero dell'Interno che aveva dato appunto le indicazioni di fare un bando col 20% in più dei posti attualmente disponibili. E per cui stiamo andando avanti anche con questo e vedremo in proiezione nell'attesa che poi si concluderà il bando SPRAR, che è quello di seconda accoglienza, gestito direttamente dal Ministero dell'Interno per circa 10.000 posti. e quindi in questo modo si dovrebbe abbassare un po' poi la pressione, almeno sui centri di prima accoglienza. Quindi, prefetto, al momento quanti ce ne sono in provincia di Teramo? All'incirca noi ce ne abbiamo tra i 5 e i 600, esclusi poi quelli dello SPRAR che sono gestiti dai comuni direttamente con il Ministero dell'Interno e Sona Roseto appunto a Teramo. E Teramo ha una capacità di 100 che comunque ancora non è completa, mi sembra intorno agli 80 sono, e lo stesso Roseto con una capacità di 50 stanno intorno ai 35-36. E questi sono da sommare i 5-600 che gestisce la Prefettura? Questi sono da sommare, noi gestiamo quelli di prima accoglienza. Aver fatto questo bando per accoglierne fino a 700 non significa che arriveranno di sicuro? No, non significa tenersi pronto che in caso di ulteriori sbarchi... Dal prossimo anno accademico, e cambiamo argomento, l'Università di Teramo avrà il DAMS. È arrivato l'ok definitivo del Ministero dell'Università alle iscrizioni dal 1 agosto. Il servizio. Il Ministero dell'Università ha dato l'ok al DAMS a Teramo. Quando si parte? Si parte dal prossimo anno accademico. Abbiamo avuto l'approvazione ministeriale sul progetto che abbiamo presentato e che ci consentirà di attivare questo ulteriore polo di formazione. È un polo a cui attribuiamo una particolare rilevanza, non solo per il percorso formativo, ma perché ci consentirà di lavorare in sinergie con i conservatori, con le accademie e in qualche modo di rafforzare una delle tante vocazioni della città, che può essere quella della formazione culturale in senso ampio. Il corso si chiamerà per l'appunto Discipline Arte, Musica e Spettacolo, in sigla DAMS. Intorno a questo corso contiamo di costruire tutta una serie di attività, dai laboratori alle attività che vorranno realizzare gli stessi studenti iscritti che sono convinto potranno concorrere a rafforzare ulteriormente il dibattito e la vita culturale in città. Quante iscrizioni potete raccogliere? Il numero massimo è 230. Io credo che in primo anno saremo ben lieti se potessimo arrivare ad accogliere un centinaio di matricole. Sono convinto che la bontà del progetto consentirà questo primo risultato e soprattutto lavorando poi insieme anche alle neomatricole si potrà crescere ulteriormente. Dunque le iscrizioni a partire dal prossimo anno accademico? Dal 1 agosto con la pubblicazione del manifesto degli studi nell'offerta formativa dell'Ateneo ci sarà il corso di laurea triennale in DAMS oltre che, altra novità, il corso di laurea magistrale in scienze della pubblica amministrazione. Si realizza in questo modo, direi con assoluta concretezza, quel progetto di polarizzazione del sistema universitario abruzzese in aree vocazionali. Le aree vocazionali per l'Ateneo Teramano, oltre al polo agro-bio-veterinario, non possono che restare quella di giurisprudenza. Il polo giuridico regionale rivendichiamo con forza qui a Teramo in qualche modo l'unicità del polo stesso. Il rafforzamento del polo politologico, il corso di laurea magistrale in scienze della pubblica amministrazione a questo obiettivo e direi la reinterpretazione di una vocazione che è stata finora ottimamente svolta dalla Facoltà di Scienze e la Comunicazione e anche nella formazione culturale. Per questo, dicevo, al Dams attribuiamo altri significati, ulteriori significati. Restiamo nel campo dell'istruzione a Teramo, questa volta con polemiche. Scuole presi di contro. Succede appunto a Teramo dove il dimensionamento scolastico e gli accorpamenti di alcune scuole ad altre dirigenze stanno creando non poche polemiche. La scuola elementare Michelesi dal prossimo anno farà riferimento all'istituto comprensivo Zippillino e Lucidi, ma pare che le insegnanti lasceranno la scuola per restare sotto la dirigenza dell'istituto Savini San Giuseppe. Sono libere di farlo, ha detto l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Teramo Romanelli, ma le sezioni della Michelesi restano dove sono il servizio. Parliamo di dimensionamento scolastico e delle ovvie, si potrebbe dire, polemiche. Perché? Perché lo spostamento della scuola Fornacicona e anche della Michelesi, che cambiano riferimento di presidenza, per dirla in maniera semplice, ha sollevato non poche polemiche tra le insegnanti e i genitori. Assessore Romanelli, come se ne esce? Cosa cambierà? Nulla. Perché quelle scuole che andranno, se facciamo gli esempi pratici, se no non ci capiamo. Allora, Fornacicona andrà sotto la dirigenza dell'istituto comprensivo Falcone Borsellino, che ha sede a Villa Vomano, dove attualmente è in regenza, quindi non c'è la preside. In questo modo raggiungerà un giusto dimensionamento e quindi avrà la preside. E io dico che gli istituti comprensivi che hanno, non sono in regenza, ma hanno una preside effettiva, vanno meglio, l'organizzazione è assolutamente migliore, ne vale anche per l'offetta formativa. È vero che la legge dice che gli insegnanti di quella scuola che viene appunto spostata in un altro istituto comprensivo possono rimanere nell'istituto comprensivo d'appartenenza, ma è anche vero che saranno sostituite poi da personale educativo assolutamente all'altezza, formato, quindi non ci sarà nessun problema. E così vale per Michelessi, stessa storia perché noi abbiamo fatto questo, per bilanciare un po' la perdita di alunni che Fornacicona apparteneva a Zippilli non lucidi e quindi la Michelessi che, ripeto, è nel giardino della Zippilli, passerà appunto con la non lucidi Zippilli. Però pare che gli insegnanti della Michelessi faranno richiesta di restare alla San Giuseppe come presidenza. Ma certo, ma è lei, questo nel rispetto della legge lo potranno fare, quello che io voglio dire però che non è pensabile, che si trasferiscono tutte le sezioni della scuola primaria Michelessi in un'altra scuola, per esempio la San Giuseppe, questo non è possibile, non è realizzabile, non solo per motivi logistici ma anche organizzativi. Però se succederà che gli insegnanti vorranno rimanere con la San Giuseppe, ci saranno nuove insegnanti della Michelessi? Ci saranno nuove insegnanti ma non cambierà nulla. Torniamo ad occuparci del problema della tesoreria del Comune di Teramo. Il consigliere comunale di Teramo, soprattutto Dodo Di Sabatino Martina, torna ad attaccare la Tercas. La minaccia di lasciare la tesoreria comunale ha detto è una grave offesa al territorio. Sentiamo. Secondo il consigliere comunale di Teramo, soprattutto Alfonso Di Sabatino Martina, la lettera che Banca Tercas ha inviato al sindaco di Teramo, Maurizio Bruc, e dunque all'amministrazione comunale in merito al servizio di tesoreria, è una mancanza di rispetto verso il territorio. Perché? Io la trovo altamente offensiva perché sostanzialmente ribalta integralmente il contenuto della norma e già di per sé quindi è una lettera che non afferma la verità dei fatti perché il diretto di recesso unilaterale compete esclusivamente al Comune e non evidentemente alla Banca. La Banca non può piccarsi del fatto che ci propone delle condizioni peggiorative rispetto all'attuale convenzione vigente che scade al 30 giugno 2017 e addirittura evoca l'ipotesi di danno orariale. Il danno orariale sarebbe nella misura in cui noi rinegoziassimo in peggio le condizioni attualmente vigenti. Questo sarebbe danno orariale. Altro che il fatto di non garantire a loro maggiori prebende e maggiore rimunerazione delle convenzioni pattuite. D'altronde loro l'hanno firmata senza dolo, non possono oggi a distanza di 5 anni lamentarsi rispetto a questo e laddove ritenessero che queste convenzioni siano pedestri invocassero la giustizia ordinaria. Tra l'altro l'unico punto che ha messo d'accordo tutto il Consiglio, maggioranza, opposizione e anche l'assessore competente compreso il sindaco è proprio questa lettera che non è piaciuta a nessuno. Ma guardi, è una questione di stile ancora una volta. Una banca che dice di essere il territorio non fa come proposta unilaterale di partenza della contrattazione chiede 5 punti percentuali euribori in più, azzera il contributo che era di 40.000 euro e chiede un corrispettivo per la tesoria di 40.000 euro. Tradotto in cifre? Circa 850.000 euro l'anno in più sul bilancio del Comune dell'Ente. Poi rinegozia e scende a 2 punti percentuali, azzera il contributo sempre e non chiede il corrispettivo. E comunque significherebbero 350.000 euro in più sulle casse dell'Ente. Se questo è un comportamento da banca del territorio, lascia ai cittadini terramani il giudizio su questi comportamenti della Banca Popolare di Bari. Rilanciare il lavoro con il Jobs Act. Ieri il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dopo la visita ai laboratori del Gran Sasso, si è recato alla Walter Tosto di Chieti, azienda leader nella produzione di serbatoie e caldaie, che nel 2016, grazie al Jobs Act, sta assumendo e assumerà alla fine 100 lavoratori. Soddisfatto il presidente della Regione D'Alfonso. Nel 2015, in Abruzzo, con il Jobs Act, ha detto, sono stati creati circa 7.600 posti di lavoro. Il servizio. Nel 2015, grazie al Jobs Act, sono stati creati in Abruzzo circa 7.600 posti di lavoro, numeri che sono in crescita anche nel 2016, e una vittoria del governo Renzi. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, intervenendo nella sede della Walter Tosto S.P.A. di Chieti, alla presenza del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in visita istituzionale ieri in Abruzzo per festeggiare i primi due anni del suo governo. Sì, ho messo in evidenza i numeri dell'economia di questa regione, che secondo me coincidono. Uno, con il numero delle imprese attive. Due, con coloro i quali stanno impiegando il cervello per prepararsi al futuro, cioè gli studenti. Tre, con i numeri che hanno portato qui le innovazioni normative riguardanti il mercato del lavoro. 7.600 nuovi assunti a tempo indeterminato. Se continuiamo ad operare, a semplificare la vita della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, se continuiamo a farci carico di stabilire delle ATI, associazioni temporanei di imprese, con le imprese che creano ricchezza, io sono convinto che si creeranno ulteriori occasioni di lavoro. Per adesso, i 12 mesi del 2015, la partita si chiude 2 a 0. E anche per il 2016 ci sono segnali molto importanti. In questa azienda sono venuti operatori economici e manager di impresa capaci di raccontare come la Sevel ha fatto assunzione a tempo indeterminato, la Pilkington ha fatto assunzione a tempo indeterminato, la Fater, ma anche la di Vincenzo. C'era prima il direttore generale della CEIT, il gruppo di Vincenzo, che ha fatto anche lì altre 40 assunzioni. Sono fatti dei quali noi dobbiamo riempire anche le colonne della nostra memoria. Voglio ricordare, ha aggiunto D'Alfonso, che l'Unione Europea e il Governo nazionale ci hanno consegnato 2 miliardi di euro in mano che noi vogliamo impiegare per creare lavoro e ricchezza. Accanto alle risorse finanziarie, però ha aggiunto il Presidente della Regione, noi dobbiamo imparare ad usare anche le risorse normative, come ci ha dimostrato in questi due anni il Governo Renzi. L'Abruzzo ha bisogno di lavoro perché, ha concluso il Presidente D'Alfonso, è capace di fare e di lavorare. Un'occasione persa, così la definisce il Presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone, la visita lampo del Premier Renzi in Regione. Importante e significativa per il sistema economico regionale, la visita di Renzi ai laboratori del Gran Sasso e alla Walter Tosto di Chieti, ha detto Ballone in una nota grave da parte della Regione, non aver invitato Confindustria ai suoi vertici regionali e locali, che sono stati inspiegabilmente ignorati. Il Presidente degli industriali abruzzesi ha evidenziato come l'importante incontro istituzionale e avesse un taglio spiccatamente di interesse economico e imprenditoriale, avendo al centro dell'interesse temi come quelli legati al Jobs Act e alla ricerca che Confindustria ha sempre posto come assolutamente prioritarie. E in particolare sul Jobs Act Confindustria, che a Monti aveva sollecitato e poi contribuito alla stesura del provvedimento, ha poi in effetti fatto larghissimo uso di tale strumento che tanto sta favorendo nel nostro sistema economico, scrive Ballone, nuove assunzioni e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, come prima in effetti diceva D'Alfonso. E' diffusa, secondo Ballone, sul territorio la presenza di realtà industriali che ogni giorno fanno innovazione e sviluppo, anche sotto il profilo occupazionale. Questo rende ancora più grave da parte della Regione averle ignorate e con esse l'associazione che le rappresenta. Ancora polemiche in merito alla visita di Renzi in Abruzzo. Questa volta è Forza Italia ad intervenire. E' imbarazzante che un Presidente del Consiglio faccia una battuta del genere. E peggio ancora sono D'Alfonso, che ci ride insieme, e Paolucci, che sta lì come un fantoccio senza dire nulla. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, durante i lavori del Consiglio regionale, questa mattina in corso a Pescara, a proposito della visita di Renzi in Abruzzo. Il riferimento di Sospiri in particolare è allo scambio di battute tra il Premier, il Presidente di Regione e l'assessore alla Sanità Paolucci. Un video del siparietto è finito sui social e sta facendo il giro del web. D'Alfonso, all'arrivo del Presidente del Consiglio alla Walter Tosto di Chieti, ha presentato Renzi a Paolucci spiegando che si è occupato del risanamento della salute. E il Premier ha stretto la mano all'assessore dicendo, tra le risate generali, prosegue ancora Sospiri, mi hanno fatto vedere tutti i punti che è chiusi, dice Renzi a Paolucci. Sulla questione erano intervenuti anche Grillini chiedendosi quando è che il diritto alla salute è diventato uno scherzo. Cambiamo argomento. Abbiamo tagliato del 40% il numero di consulenze esterne e ridotto così di oltre 200 mila euro le spese dell'amministrazione provinciale di Teramo, lo dice il Presidente della provincia Renzo di Sabatino. Il dato è in controtendenza rispetto a quello nazionale che vede aumentare la spesa per le consulenze esterne. L'intervista. La spesa per le consulenze in Italia nel 2014 è cresciuta per gli enti pubblici del 60%. La provincia di Teramo pare sia virtuosa perché le ha ridotte del 40%. Ci dobbiamo credere, Presidente? Il 40% è ridotto in relazione proprio al numero delle consulenze. Siamo passati da 170 a poco più di 100. Il risparmio di spesa rispetto al 2013 è di oltre 200 mila euro. Ci sono ancora dei pagamenti che nel 2015 la provincia ha effettuato, ma stiamo parlando di progettazioni vecchie e quindi di consulenze che poi hanno avuto il loro termine l'anno passato. Quindi sì, nonostante vi è una riduzione del personale interno, anche sulle consulenze esterne, anche sui rapporti e collaborazioni esterni che spesso sono anche necessari, però c'è stata una riduzione in questo ente. Ha avuto modo di dirlo a Renzi ieri? No, Renzi ha chiesto come stavamo e abbiamo detto dimagriti. Lei ha detto bene, grazie, non ci tocchi più. Abbiamo detto che non solleviamo problemi, adesso però è giunto il momento di restituire importanza alle province o enti di area vasta, come saranno chiamati nel futuro. I dipendenti cominciano a muoversi, andranno collocati. C'è stato l'ultimo provvedimento di cui ha dato notizia Lolli. Il Comune di Teramo pare che voglia alcuni della Polizia Provinciale per metterli nel corpo della Municipale. Adesso si sono aperti i portali e quindi bisogna un attimo verificare l'incrocio tra il personale in uscita delle province e il personale che è richiesto dai vari enti locali e altri enti pubblici. È un'attività che adesso valuteremo e verificheremo e che sarà parallela a quella del trasferimento delle funzioni in Regione che è già avviato. Oggi il Presidente per Antonomasia, il Cavaliere Gian Domenico Di Sante compie 80 anni. I nostri auguri, gli auguri di Teleponte, nel prossimo servizio. 80 anni spesi nell'impegno per il territorio. Che volesse dire politica, associazionismo, banche. Auguri, Presidente Di Sante. Classe 1936, quella che alla soglia dell'adolescenza buttò tanti giovani alle prese con il duro ripartire del dopoguerra forgiandoli a due concetti, sacrificio e lavoro. Ecco perché Gian Domenico Di Sante era già nella mischia a 14 anni, garzone nella bottega di falegnameria di papà Mastro Attivio e a 23 era già titolare di tre piccole ditte, di tre categorie merceologiche diverse, mobili, benzina e bar. Ecco perché, alla soglia dei 40 anni ininterrotti di presidenza di una banca, Gian Domenico Di Sante tiene più di tutto a quel titolo che il Presidente Giorgio Napolitano gli ha conferito nel 2008, annoverandolo tra i soli tre abruzzesi in Italia, cavaliere del lavoro. Risiede in questo la sua inossidabilità, il suo senso della mediazione, la capacità di superare anche gli ostacoli più duri. Saper guardare oltre, laggiù, senza mai dimenticare ogni tanto di voltarsi indietro e rileggere quello che fu e da dove si viene. Come nella politica, da referente della grande democrazia cristiana terramana, che divideva con chi, assieme a lui, ha percorso la sua stessa strada, ma che diversamente da lui non ha saputo leggere in anticipo il dinamismo non solo dei tempi, ma della vita. Altrimenti, come essere non uno tra i tanti, ma tra i tanti quel solo capace di vivere la stessa presidenza di banca attraverso ben sei tra fusioni e concentrazioni. Le altre presidenze, o i vicariati, fanno parte della storia di un personaggio da tanti cercato, ai quali affidare sempre la gestione di un percorso verso nuove iniziative e traguardi, quasi sempre raggiunti. È stato così per la Confcommercio, il Cresa, l'Unione Industriali, Centrobanca, Isveimer, Federmobili, Fondazione dell'Università di Teramo e non da ultima la Camera di Commercio. Così, come fanno parte della storia anche i suoi incarichi di consigliere comunale e provinciale, a cavallo di due decenni, dal 75 al 90, o il primato di essere cavalieri di Gran Croce di due ordini diversi, al merito della Repubblica Italiana e del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Perché anche a 80 anni, Gian Domenico Di Sante è e resterà un presidente non nell'incarico ma nel ruolo. Perché Presidenti si nasce. Musica a scuola. Il progetto musicale gestito dall'Istituto Comprensivo Zippillino e Lucidi di Teramo ha avuto come testimonial il musicista Paolo Di Sabatino. C'è anche la musica nel progetto educativo in continuità dell'Istituto Comprensivo Zippilli Lucidi di Teramo. L'insegnamento musicale inizia dalle scuole elementari e prosegue anche alle medie. Il progetto è stato presentato nella Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo alla presenza del musicista teramano Paolo Di Sabatino. Ma sicuramente sì, perché il discorso del fare musica insieme è fondamentale. Io ho iniziato a sei anni, però in realtà le prime occasioni di suonare insieme agli altri sono venute poi in seguito tanti anni dopo. Quindi sarebbe stato sicuramente una bella cosa avere la possibilità di suonare in un'orchestra come oggi hanno l'occasione di fare in questa splendida struttura che è la Zippilli. Sì, questa sera è l'ultimo appuntamento di una serie di iniziative di continuità e di orientamento che vedono la scuola all'istituto comprensivo Zippilli Lucidi così presentare e promuovere il progetto educativo che la caratterizza, un progetto educativo in continuità che vede diversi tipi di trasversalità. Questa di questa sera, per esempio, è il progetto in continuità che riguarda la musica che noi promuoviamo dalla scuola dell'infanzia e poi con l'indirizzo musicale alla scuola media lo portiamo, diciamo così, a compimento. E adesso prima della pagina sportiva andiamo a scoprire insieme le previsioni del tempo per le prossime ore con Meteotera 1.it Previsioni per oggi in Abruzzo al pomeriggio nuvoloso con deboli piogge lungo la dorsala penninica variabile sulle zone orientali in serate nella notte parzialmente nuvoloso sulle zone interne e sui rilievi parzialmente nuvoloso sulle zone orientali temperatura insensibile diminuzione massime comprese tra 12 e 15 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 19 e 22 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli settentrionali, mare quasi calmo in provincia di Teramo al pomeriggio variabile sulle zone appenniniche moderatamente nuvoloso sulle zone subappenniniche in serata e nella notte poco nuvoloso temperatura in lieve diminuzione massime comprese tra 18 e 21 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 16 e 19 gradi sulle coste venti deboli nord orientali, mare calmo, quasi calmo o buildup o o o o o kil ucker o Eccoci alla pagina sportiva, cominciamo con il calcio, con il Teramo è stata fissata per venerdì pomeriggio l'udienza del Teramo dinanzi al Tribunale federale d'appello che si dovrà pronunciare in ultima istanza sull'entità della penalizzazione per il caso di Savona-Teramo a meno di clamorosi colpi di scena questa settimana verrà messa la parola a fine sul caso che ha scosso l'estate dei tifosi bianco-rossi intanto nel corso della trasmissione bianco-rossi andata in onda ieri sera il dirigente del Teramo Gianluca Scacchioli ha spento le polemiche nate per le parole pronunciate da Campitelli subito dopo la fine del match contro la Lupa Roma il presidente ha detto Scacchioli è un tifoso, le sue dichiarazioni a caldo non devono essere drammatizzate ma devono essere prese come un modo per stimolare la squadra a fare meglio Scacchioli ha confermato possibili novità nell'organigramma con l'arrivo a breve di un nuovo direttore sportivo Ascoltiamolo Allora Gianluca Scacchioli, innanzitutto hai sentito il presidente, è ancora così adirato oppure è più tranquillo oggi? No, io lo senti ieri sera per telefono, poi siamo visti questa mattina, è molto più tranquillo pure perché le interviste del dopo partita ha fatto un presidente che comunque primariamente è tifoso è chiaro che magari da un presidente ci si aspettano parole diverse sempre, è chiaro che dal suo punto di vista cerca sempre di stimolare, in questa maniera è anche difficile trovare eccessive giustificazioni perché poi quando l'attacco è duro può sembrare estremamente eccessivo, ma noi siamo un po' abituati, dico un po' tutti perché è un modo che ha lui da tifoso di dimostrare in primis il dispiacere alla delusione per una gara di ieri che effettivamente è stata abbastanza deludente e in seconda battuta è un modo che ha proprio naturale, istintivo di motivare l'ambiente in questo caso potrebbe risultare pure difficile per chi è nuovo, ma il presidente c'era sempre queste uscite, questi colpi li ha sempre avuti nel suo DNA, dobbiamo accettare la delusione, dobbiamo accettare la motivazione perché non dobbiamo entrare nel merito della polemica in quanto sul mister Vivarini come stamattina mi ha ribadito il presidente stesso, c'è una stima totale oggi il presidente è intervenuto spesso su Facebook, sulle social network, sulla sua pagina personale per dialogare un po' con i tifosi e tra le altre cose ha detto che a breve arriverà il direttore sportivo a breve, stiamo sicuramente valutando, questa è la dimostrazione che il presidente agisce spesso da tifoso una caratteristica che gli si deve riconoscere senza eccessivamente criticarla perché da un lato può essere criticabile, dall'altro lato bisogna apprezzarla poi sarei tu a dirci almeno se sono stati contattati, se sono possibili o meno gli arrivi di questi personaggi Vincenzo Minguzzi, Ciccio Micciola, Luca Leone, Fabio Lupo Guarda, non tutti, c'è qualche nome interessante per la società sono tutti direttori di spessore, sicuramente c'è l'interesse per qualcuno ma non escluso qualche altro nome, ma soprattutto quello che deve interessare il mio modo di vedere in questo momento non è tanto il nome ma è la volontà di una società di migliorarsi e di completarsi quindi questa è la cosa che deve rassicurare più di tutti Ancora un cambio di panchina nel girone B di Lega Pro la Lucchese ha sollevato dal suo incarico il tecnico Giovanni Lopez al suo posto torna Francesco Baldini che aveva cominciato la stagione sulla panchina toscana ma che era stato esonerato dopo il K.O. subito con il Sant'Arcangelo all'ottava giornata di campionato Adesso il basket di Serie B La Globo Info Service Campli batte l'Auerortona conquista la sua quarta vittoria di fila e si conferma tra le pretendenti più serie nella corsa alla qualificazione playoff La squadra di coach Millina adesso è al quarto posto in classifica a meno 4 dal duo di testa composto da Sansevero e Montegranaro e a meno 2 dal Falconara che occupa la seconda piazza Andiamo ad ascoltare l'intervista post-gara con il giocatore Farnese Onorio Petrazzuoli Una partita, un derby combattuto come si prospettava alla vigilia però il Campri poi alla fine meditatamente sul campo lo ha vinto Sì, veniamo da una settimana molto dura tre partite in una settimana tre partite che non sono partite ma sono state guerre la battaglia di Valmontone, la battaglia in casa con Sansevero questa sapevamo che era durissima loro sono una squadra super beh, allenata in maniera super però abbiamo avuto due giorni per prepararla il coach, non ci siamo allenati mai cioè eravamo troppo stanchi per affrontare anche allenamenti abbiamo preparato in maniera molto tattica in maniera perfetta, curato ogni minimo dettaglio ognuno che entrava, ognuno che stava in campo sapeva tutto quello che doveva fare siamo stati molto bravi faccio i complimenti a tutta la mia squadra che è stata perfetta anche stasera come è cambiato il vostro gioco dopo la partenza di Giulio Maria e Fattori? abbiamo perso i nostri due terminali offensivi principali avevamo molta più sicurezza in difesa con loro però sai, si fa di necessità virtù loro sono andati via per scelte personali noi siamo rimasti qui ci siamo guardati ci siamo detti che non era nulla perso tutti, perché tutti i giorni dopo tutti i giornali, tutte le divisioni ci davano per spacciati stiamo a 5 vittorie su 6 da quando sono andati via tutte e due quindi la situazione è questa noi siamo qui per lottare fino alla fine la società non ci chiede nulla né di vincere né di stravincere o di entrare in campo scarichi noi veniamo pagati per dare il massimo tutte le volte in campo e fino alla fine noi faremo questo poi il campo parlerà chi meriterà di salire o di vincere la singola partita noi siamo qui pronti a lottare quindi siamo a disposizione dell'allenatore l'allenatore è quello che decide noi stiamo qui per lavorare per lui una parola sul pubblico questa sera? ma io non parlerei solo per stasera sono tre partite in casa che facciamo fantastici, la partita di Sansevero ce l'ho ancora in mente fantastici, questa bellissima a Valmontone c'erano ci sono stati ovunque a Giulianova sembrava che noi giocavamo in casa e allora fuori casa fantastici, sono stati sono super ragazzi spettacolari che incontriamo tutti i giorni in mezzo alla strada che ci fanno il tifo in mezzo alla strada ci fanno i cori in mezzo alla strada quindi bello, bello è un'atmosfera molto bella la nazionale italiana di ciclismo paralimpico in ritiro a Pineto è cominciato ieri e proseguirà fino al 27 di febbraio prossimo ovviamente con questa nazionale italiana di ciclismo paralimpico c'è anche il campionissimo di sport e di vita Alex Zanardi qui in questa foto lo vedete guidare il gruppo con la sua maglia eridata è campione del mondo Alex Zanardi che è stato campione di automobilismo adesso lo è di ciclismo paralimpico lo vede impegnatissimo per le strade della collina sopra a Pineto in questa bellissima foto in cui saluta praticamente tutti i suoi sostenitori e oggi si sono allenati i campioni di ciclismo paralimpico qui li vedete in formazione mentre lasciano proprio Pineto fuori dall'albergo e domattina invece alle 10 sempre a Pineto ci sarà il grande evento campioni nello sport campioni nella vita presso il palavolley di Borgo Santa Maria con la nazionale di ciclismo paralimpico appunto guidata da Alex Zanardi e ci saranno anche 700 studenti di Pineto di Silvi, di Atri e di Roseto le istituzioni civili e militari e a sorpresa anche la visita della squadra di basket in carrozzina amicacci di Giulia Nova bella davvero questa immagine di Alex Zanardi che saluta tutti i suoi sostenitori e chiudiamo con l'atletica leggera velocità e salti giovanili hanno caratterizzato le gare indoor di Ancona dello scorso fine settimana per quanto riguarda gli atleti teramani sui 60 metri Alessandro Bonanni dell'atletica Romano Gran Sasso ha fatto segnare 6,95 stabilito in batteria per lui si tratta della prima volta sotto la barriera dei 7 secondi a livello giovanile si è svolta la Coppa Giovani Indoor manifestazione riservata alle categorie cadetti e ragazzi dove spicca il primo posto con un metro e 66 nel salto in alto ragazzi di Lorenzo Di Marco dell'atletica Teramo classe 2003 che rappresenta un risultato di promettente valore tecnico altra prestazione interessante è quella di Federico Caciotti dell'atletica Teramo con 5,05 nel salto in lungo ragazzi con la quale con questa misura ha vinto la gara complimenti e adesso chiudiamo qui il nostro telegiornale l'appuntamento si rinnoverà quello con l'informazione questa sera alle 19.15 sempre in diretta grazie e buon proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti